Si uccidio questa mattina lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazzara del Vallo tra gli svincoli di Partinico e Montelepre. Una donna di 49 anni palermitana intorno alle 7.30 di questa mattina si sarebbe tolta la vita gettandosi dal viadotto. Secondo la ricostruzione dei fatti la donna giunta sul posto a bordo di una Fiat 600 rossa ha posteggiato nella corsia di emergenza mettendo in pratica il folle gesto che a quanto pare aveva pianificato per bene. La donna infatti si è schiantata al suolo morendo sul colpo. Avrebbe lasciato una lettera di scuse al marito e ai figli spiegando i motivi che l'avrebbero tolto la voglia di vivere. Sul posto sono intervenuti una pattuglia del commissariato di polizia di Partinico e della Polestrada e i vigili del fuoco per recuperare il suo corpo privo di vita. Nel corso delle operazioni del caso un poliziotto è scivolato nel dirupo provocandosi ferite e contusioni e finendo al pronto soccorso dell'ospedale civico di Partinico. Partinico